Firmato presso i locali della Proloco Cittadina un protocollo di intesa tra il presidente della Proloco Bruno Ienco e il sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina. L'obiettivo è quello di valorizzare Monte Cucuzzo attraverso una serie di iniziative messe in campo dal sodalizio turistico. Frosina si è detto soddisfatto dell'accordo sottoscritto sottolineando l'importanza di puntare al recupero e al ripristino degli antichi sentieri. Ringrazio il presidente della Proloco che tempo fa, circa tre mesi fa, ha fatto un ottimo convegno riguardo il Monte Cucuzzo. Io sono perfettamente d'accordo con il presidente della Proloco e le altre associazioni che hanno organizzato questo convegno in quanto il Monte Cucuzzo va valorizzato. Noi dobbiamo ripristinare tutti i vecchi sentieri e fare in modo che la gente vada in questo Monte Cucuzzo per valorizzarlo al meglio. Questa è una cosa fondamentale. Fra l'altro là, diciamo, tempo fa, circa 80 anni fa, c'era anche una centrale idroelettrica, c'erano i terrazzamenti e via dicendo. Questo, diciamo, allo stato attuale non si può andare su Monte Cucuzzo perché tutti i vecchi sentieri sono stati abbandonati. Quindi io sono perfettamente d'accordo per ripristinare i vecchi sentieri e valorizzare al massimo il Monte Cucuzzo. Alla Proloco del presidente Bruno Ienco, il compito, attraverso il coinvolgimento di gruppi, associazioni, enti pubblici e privati e singoli cittadini, di attivarsi per avviare concrete iniziative volte al ripristino della sentieristica, alla promozione del sito, all'organizzazione di visite guidate e al posizionamento del percorso nella rete degli itinerari escursionistici nazionali ed internazionali. Io intanto ringrazio personalmente, ma anche come Presidente dell'Associazione Turistica Proloco, il nostro sindaco. Ha una disponibilità indiscussa, ci mancherebbe altro. Quando abbiamo proposto questa iniziativa, cioè la valorizzazione di tutti i siti che ci sono a Bagnara e in modo particolare Monte Cucuzzo, lui ha dato la sua ampia disponibilità, così come lui poco fa ha detto. Come Proloco ovviamente io ringrazio non solo il sindaco, ma anche tutti i volontari che in questo ultimo periodo si stanno prodigando per avviare una sorta di pulitura del sentiero in modo tale che si possa raggiungere con molta facilità. Noi qui a poco faremo un raduno sotto il Monte Cucuzzo per poi fare questo percorso e arrivare lì sotto. Il nostro intento assieme all'amministrazione comunale non è fermarci e fare solo la passeggiata e probabilmente nel proseguo di quello che noi pensiamo di ottenere, fare lì, costruire lì sopra un sito dove uno che arriva è una sorta anche di bel vedere in modo tale che ci sia un affaccio. L'affaccio non è un qualcosa di inutile perché lì si affaccia, si affacciano le Israeoli, si affaccia lo stretto di Messina, si affaccia il ponte sfalassà, insomma c'è un qualcosa di meraviglioso da vedere. Quindi noi puntiamo sicuramente assieme all'amministrazione comunale e sempre con l'amministrazione comunale a valorizzare oggi Monte Cucuzzo ma tutto ciò che c'è da valorizzare per il nostro territorio. Per il sindaco della cittadina della Costa Viola Monte Cucuzzo è solo l'inizio, l'intenzione è quella di ripristinare i sentieri ricadenti all'interno del territorio comunale e dare decoro ad altri siti di interesse storico. Tanto è vero che noi già con l'amministrazione comunale stiamo già cercando, no stiamo già, sono stati già consegnati i lavori per la valorizzazione della Torre Ruggero. Se è benissimo che da un po' di tempo alla Torre Ruggero non si può accedere perché è inagibile, abbiamo già consegnati i lavori, a giorni metteranno mano per ripristinare nuovamente la Torre Ruggero e rendere fuibile a tutti i cittadini e in modo particolare anche ai tanti visitatori e ai tanti turisti che vengono a bagnare. Stiamo cercando di valorizzare anche altri siti tipo Martorano, tipo la strada Palombare e tante altre cose. Premare tanto che dobbiamo avere la disponibilità finanziaria comunque l'impegno dell'amministrazione comunale c'è per il ripeto e per valorizzare tutti i siti turistici che ci sono a bagnare.